Quali sono gli incidenti più invalidanti che possono accadere sia a chi lavora, sia per uno sportivo a livello agonistico o amatoriale? Naturalmente stiamo parlando di trauma del polso e della mano. La traumatologia è altrimenti variegata. Un tempo sicuramente le cause più frequenti, più gravi, sono legate all'attività industriale, quindi con macchinari e alta energia, con scarsissime protezioni. All'epoca quando eravamo giovani noi non esistevano leggi tipo la 626 a tutti i lavoratori, quindi abbiamo passato la gioventù a cercare di ricostruire drammi con lesioni assolutamente sconvolgenti che solo la chirurgia della mano poteva in qualche modo ricostruire. Nel campo dello sport è chiaro che i sport che producono trauma ad alta energia, il motociclismo, l'automobilismo, possono causare delle distruzioni paragonabili a quelle dei macchinari industriali. Quali sono le possibilità riabilitative? Lei ha operato sportivi, grandi nomi dello sport e questi sono tornati a praticare lo sport esattamente come prima. È sempre possibile? Non è sempre possibile purtroppo. È certo che la tecnologia, l'avanzamento delle scienze e le esperienze maturate in tanti anni sul campo hanno permesso di affinare metodiche, tecniche, strategie di trattamento, di riabilitazione sempre più sofisticate e a disposizione di tutta la popolazione. È del tutto ovvio che certi nomi particolarmente noti portano alla ribalta la nostra chirurgia, ma voglio ricordare che tutti i giorni abbiamo nel nostro saloperatorio operai, autisti di pullman, persone che hanno attività di ogni genere di natura, ma che hanno lo stesso tipo di trattamento e stessa attenzione per la loro lesione, che hanno i personaggi più noti. In ogni caso a polso e mano oggi è possibile salvarle? In buona parte sì, certamente molto meglio di un tempo, tutte queste lesioni venivano trattate sostanzialmente col gesso. Oggi siamo senz'altro molto più orientati verso la chirurgia, la chirurgia della mano, che è una specialità assolutamente peculiare, ha le tecniche per ottenere il meglio da ogni tipo di lesione.